si occupa di temi, di sistemi di identità soprattutto nel settore della cultura e del territorio quindi un tema che è molto vicino comunque alle tematiche che affrontiamo in questo Master nel 2011 fonda Bologna il suo studio che si chiama Un altro studio il nome già fa capire come in realtà è anche una scelta di cercare un dialogo con interlocutori diversi quindi di fare delle cose in collaborazione anche con persone che abbiano un altro punto di vista un'altra esperienza, un'altra professionalità poi ce lo racconterà meglio che cos'è questo studio che io ho visto soltanto in foto purtroppo, prima o poi lo andrò a trovare e lui poi è anche socio professionista IAP l'IAP è l'associazione dei progettisti grafici e l'analogo dell'ADIS e l'ADIS è l'associazione dei designer l'IAP è la più importante associazione nazionale per i progettisti grafici e lui ha anche un ruolo all'interno del direttivo è stato nel consiglio del direttivo insomma ha una parte molto attiva all'interno di questa associazione insegna, in questi anni ha fatto molte docenze soprattutto in attività di workshop quindi con un taglio anche molto progettuale e adesso ha tantissime attività in varie scuole private e pubbliche a Bologna l'Accademia di Belle Arti, l'Università di Bologna la Fondazione ITS per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione è sempre a Bologna e poi insegna la labba di Trentino come diceva nella sede di Rovereto e cultura e grafica del design all'OIAD di Bologna quindi ha una bella agenda piena di impegni e ha anche due figli in tutto questo allora io non leverei più spazio a lui perché magari aggiungerà qualcosa in merito poi all'attività diciamo progettuali che fa lo ringrazio ancora e lascio a lui la parola grazie Matteo grazie a te e soprattutto Marina su questa operazione mi riuscirà malissimo bene davvero bello essere in presenza ma ve lo diranno tutti ormai allora sì la maggior parte delle cose Marina è responsabile di un sacco di cose oggi è responsabile di avermi chiamato ma è responsabile di un incontro che abbiamo avuto 11 anni fa ormai forse 12 se andiamo per i 12 2010 dove io ho partecipato a un corso di formazione sui brand territoriali qui al Poli Design perché era un momento in cui avrei voluto cambiare modo di progettare cambiare interlocutore e comunque costruire una relazione ecco forse il tema principale che Marina ha visto senza saperlo nascere perché eravamo nello stesso luogo in quel periodo che poi si è manifestato in questi 10-11 anni di lavoro e adesso vi vengo a raccontare quello che è successo in questi 12 anni io faccio grafica da tanti anni però mi rendevo conto che mancava un pezzo il pezzo è quello di entrare in contatto con le persone con i contenuti molto spesso la progettazione grafica sta in fondo si trova i contenuti già elaborati già distillati e quando va bene siamo chiamati a mettere in traduzione visiva dei concetti che non lo sono però è un po' un peccato ricevere i contenuti già finiti è molto più interessante, credo, risalire la catena di lavoro, di progettazione che sia per qualsiasi attività, di promozione territoriale, di promozione turistica, di cultura, di incoming turistico insomma tutte quelle realtà che hanno un bisogno viscerale di comunicare, di creare anche loro una relazione quindi progettare soprattutto una relazione virtuosa con l'interlocutore e di conseguenza il progetto viene poi più facile quasi dopo nel senso che non so quanti di voi conoscono un po' come avviene la progettazione grafica spesso ti chiedono, ti dicono che c'è bisogno di fare un certo tipo di intervento tu torni in studio, lo progetti, ne fai una soluzione grafica che ti convince moltissimo una che ti convince un po' meno, spesso ne aggiungi una terza perché hanno sempre detto che ci sono tre proposte e finisce che poi tu quando arrivi lì fai l'effetto sorpresa, sollevi il velo del tuo lavoro scelgono la terza e sei costretto a lavorare su un progetto che non ti piace e quindi diciamo che questo processo non è solo virtuoso anche per cercare di risolvere delle frustrazioni che sono connaturate con l'essere grafico che quello del mondo se non sentirsi mai capiti abbastanza quindi costruire delle relazioni vuol dire pensare a un progetto utile un progetto che tenga conto di tutte le variabili estetiche, funzionali però che sia utile, che sia da qualcosa. Ecco perché dopo aver studiato anche al corso dove c'era Marina ho voluto spostarmi quasi esclusivamente sul settore pubblico che credo sia l'ambito che ha più bisogno di comunicare se stesso nello specifico ciò che riguarda la cultura, il turismo, l'arte che sono poi i luoghi in cui mi piace andare nel senso che la Domega preferisco andare in un museo piuttosto che all'Ikea e quindi mi è più facile, conosco meglio quel settore e ne posso leggere le criticità e eventualmente provare a dare delle soluzioni quindi il titolo di questo breve incontro di oggi si chiama il progetto identità come dispositivo di relazione sembrano un po' quelle frasi un po' supercazzo, con una serie di parole in fila in realtà per me hanno molto senso e proprio c'è quasi in due, quattro, cinque parole un po' la sintesi di quello che è stato questi dieci anni di lavoro progettare, nel senso profondo del termine, progettare le identità l'identità visiva è a mio avviso l'ambito progettuale dove il grafico trova maggiore soddisfazione e maggiore difficoltà è uno spazio visivo ristretto se pensiamo all'identità come un marchio erudamente detto logo dai più però è anche una bella sfida far restare in quel piccolo spazio tante informazioni, cioè il messaggio l'obiettivo di disegnare l'identità visiva è quello di fare in modo che quando tu non ci sei quella identità parli un po' al posto tuo trasmetta un po' di quelle sensazioni che fanno parte del tuo pacchetto valoriale quindi fare stare in un poco spazio poi in realtà vedrete che non è poco lo spazio però concettualmente in un poco spazio di un'identità visiva tante informazioni e le informazioni che dobbiamo progettare noi sono quelle che ci deve restituire l'interno nostro interlocutore ecco che la relazione è fondamentale dobbiamo entrare in una relazione stretta con il nostro interlocutore conoscerlo bene, entrare in una connessione e fare in modo di diventare la sua interfaccia di comunicazione quelli che possano tradurre un concetto verbale diciamo così in un concetto visivo e che possa essere letto non solamente dai grafici molto spesso si fa grafica per la grafica noi vorremmo che la grafica servisse come dispositivo, come strumento ecco grafica utile è tutta una letteratura su come da Massimo Dolcini in poi si è progettato per rendere migliore il mondo adesso questo è un po' forte come dichiarazione però insomma è un sentimento che alimenta un po' chi fa il nostro mestiere e infine relazione relazione chiaramente vi ho già spiegato quanto tenga io a questa parola e oggi vi parlerò di relazione ve ne parlerò attraverso adesso io ho portato quattro progetti vediamo quanto tempo c'è ho portato il primo e l'ultimo di questi 12 anni e due in mezzo che in qualche modo mi hanno dato particolare soddisfazione il primo era già in atto quando sono venuto a Milano ed era il poi ci arrivo vi parlo perché è un altro studio un po' l'ha detto Marina c'è una volontà di provare a fare le cose in maniera diversa un po' ve l'ho raccontato progettare non per qualcuno ma con qualcuno ci siamo avvicinati al design thinking alle progetti di progettazione cioè progettazione condivisa la coprogettazione quindi trovare il modo di entrare in relazione anche progettuale con il cliente quindi non prendere le informazioni chiuderci in studio e poi tornare a fare wow con le tre proposte di cui una non vuoi che sia scelta in realtà noi stiamo in uno stretto contatto con i nostri interlocutori dal primo all'ultimo momento ci portiamo a vicenda per mano lui a scoprire la sua identità e a raccontarci e noi provare a dare una trasposizione visiva e quindi questo era per noi un altro modo di fare le cose non è una scelta di presunzione adesso vi spieghiamo come si fa no, è un tentativo c'era la crisi economica nel 2010 un sacco di aziende erano andate via quindi è stato anche facile rinunciare alle aziende se ne sono andate loro quindi mi sono rimasto sugli enti pubblici ho deciso di investire su questo tipo di relazione appunto dirò talmente tante volte la parola relazione che diventerà odiosa quindi cosa vuol dire un altro studio? un altro studio si muove dal dire che di base e diciamo un'ari non noi c'è sempre un altro modo di fare le cose quindi uscire da quel paradigma abbastanza noto della nostra cultura che si fanno le cose perché le hanno sempre fatte così no, proviamo io avevo fatto grafica già da 15 anni proviamo a farne altri 15 diversi e quindi un po' munare è diventato come per molti che fanno progettazione un po' un punto di riferimento e abbiamo in studio questo manifesto suo dove trova sempre altri modi di di usare una poltrona poi lo sappiamo che il modo è uno però se ci arrivi dopo averle provate tutte dopo ti piace di più ve lo dai per scontato ecco non c'è sempre una soluzione alternativa a quella reale ma provare a fare un altro giro avvalora magari il modo in cui le cose vengono fatte però non prendere niente per com'è che è un po' l'atteggiamento e quindi faccio lo studio ho idea di che clienti avere di che relazioni di tessere di come fare strutturare un processo condiviso di partecipazione manca solo dare un'identità allo studio e anche qui è luogo comune che i grafici non hanno mai la loro identità perché è una cosa del calzolaio o le scarpe rotte non c'è mai tempo a indicarsi io lavoro molto con le scuole e con i ragazzi e faccio in modo che questi progetti diventino delle palestre di progettazione con gli allievi e quando ci siamo detti come possiamo raccontare tutto questo tema dell'entrare in relazione con qualcuno del fatto di essere di adattarci anche al tempo noi ci interessa moltissimo il tema del tempo il tempo che si impiega per progettare il tempo della vita che avrà un progetto che faremo quindi noi facciamo progetti un po' più duraturi perché fai l'identità di un museo bisogna che la proietti per una decina d'anni se fai il festival magari musicale deve durare pochi mesi quindi il tema del tempo è un'altra parola chiave per noi come si fa a rappresentare l'identità tra le essi del tempo la connessione con l'ambiente con la natura tutti i temi a cui noi teniamo moltissimo e che generi una relazione con l'interlocutore abbiamo giocato con un'identità che non è un'idea nuova però le idee che sono proprietà di tutti quindi a meno che non ci siano delle tutele abbiamo deciso che la nostra idea di identità dello studio dovesse tenere conto del tempo dell'ambiente del mondo della natura e della relazione ed è venuta fuori questa cosa quindi abbiamo progettato un marchio e abbiamo progettato un dispositivo in questo caso molto semplice non ha invitato niente nessuno è semplicemente l'acronimo del nostro studio montato perpendicolare alla facciata che proietta come una meridiana il marchio sulla parete sempre diverso in qualsiasi momento dell'anno cambia cambia il sole intanto è l'esperimento di andare a verificare come la grafica che spesso è effimera e intangibile diventa oggetto un oggetto che produce grafica ci piace pensare di non produrre un risultato ma produrre un oggetto che genera risultati sempre diversi tecnicamente si chiama identità dinamica che è molto diffuso anche in ambito culturale molti musei non in Italia dialogano con identità dinamiche potete andare a cercare la casa della musica di Porto progettata da Segmeister e l'identità visiva della città di Melbourne dove non c'è un solo marchio ma tanti marchi diversi che però si vede che appartengono allo stesso allo stesso sistema perché l'interesse deve comunicare la solidità definitiva di un marchio sempre quello come fosse una banca ma qualcosa che cambia che muta dare un'essenza vitale all'identità visiva e ci siamo divertiti moltissimo i materiali le prove capire quando in realtà devo dire che l'ultima cosa che ci siamo chiesti doveva essere la prima era se il sole batteva sulla facciata e ci abbiamo pensato a dove aver montato la cosa e fortunatamente ha funzionato se no non sarei qui chiaramente a raccontarvela e quindi anche toccare le lettere le lettere sono degli oggetti che stanno nascosti in un computer ma la lettera ha una progettazione complicatissima e quando la vedi grande così di metallo lo scopri quanto è fatta bene siamo nel design di prodotto quasi perché la lettera ha una struttura ha un peso e questa è la facciata del nostro studio con questa cosa e in cosa consiste la relazione le persone si fermano la vedono non è un grande stupore ma quando arrivi e suona il campanello non puoi non vederlo e ti assicuro che il 30% delle persone che suonano il campanello ci chiedono a cosa serve credo che una cosa che esisteva già la meridiana e pure il sole esisteva già è diventato un piccolo dispositivo di contatto di relazione noi siamo molto divertiti tra l'altro poi chiaramente le cose devono andare anche sui supporti trasportabili uno di questi è il biglietto a vista che è uno degli oggetti più obsoleti che ci siano ormai il contatto non lo scambi più con un biglietto è tutta carta sostanzialmente inutile che spesso viene buttata o usata per altro per portare questa dinamicità sulla cosa di carta abbiamo fermato 16 momenti di una giornata di sole li abbiamo disegnati e abbiamo fatto diventare dei biglietti da vista tutti diversi il risultato è che ci dovrebbe essere anche un audio ma è solo musica c'è anche la versione aggiornata e qual è il tema il tema è dare un oggetto piccolo in mano a qualcuno che se ne faccia qualcosa e l'idea di giocare ci piace tantissimo non c'è interazione più automatica e trasversale all'età del gioco e quindi pensare che un oggetto con cui ci sto comunicando qualcosa ci possa giocare è il massimo per noi del divertimento e dell'efficacia vuoi darti un oggetto di carta che non butterai via perché non vogliamo che butti via la carta ora per tenerlo devi farci qualcosa e quindi il biglietto è diventato un pretesto per cui capita in alcune occasioni mi dai un biglietto invece di un biglietto faccio uscire il flipbook faccio un gesto elementare e questo diventa un modo per parlare l'aspetto positivo è che abbiamo dato un sacco di utilità dei biglietti che per noi prima non ne avevano l'aspetto negativo è che non dai mai solo un biglietto quindi alla fine ogni volta dai un blocchetto quindi incide di più sull'economia dello studio poi ci siamo fatti prendendo un po' la mano quindi questa cosa dell'altro un altro un altro c'è un altro preventivo un'altra fattura è diventato un po' maniacale ma poi dopo ne siamo riusciti a uscire anche il non del tutto anche lo studio è un luogo di un dispositivo di sperimentazione sempre insieme ai ragazzi a cui insegno che spesso vengono a soggiornare e abbiamo fatto altri ragionamenti simili a questi un po' meno utili nel senso che questi sono proprio esercizi che vi faccio vedere lo stesso perché toccano anche in questo caso dei temi che hanno interessato molto uno del punto di vista quando si produce la comunicazione dobbiamo metterci sempre nei panni di chi la guarderà quindi che sia rispettosa di tutte le culture eticamente corretta che funzioni che si lega da lontano che si lega di giorno si lega di notte sono tutti temi che non si possono tralasciare quando ti metti alla parte di chi guarda per fare questo e ragionare su questo abbiamo fatto una pittura anamorfica in studio voi conoscete gli anamorfismi sono sostanzialmente delle pitture sui muri che si vedono bene solamente da un punto delle lettere che sono tutte tirate lunghissime che quando sei nel punto giusto queste si palesano vabbè ve lo faccio vedere che magari faccio prima grazie grazie questa grafica è su tre pareti differenti con triangolazioni differenti e le lettere sono stirate le o non sono i cerchi però c'è solamente un punto dove la scritta si compone e questo l'abbiamo inventata però succede che poi entrando in studio con l'ingresso le persone si fermino e comincino a intercettare quel punto nello spazio che varia dall'altezza della persona dalla distanza abbiamo messo un bollo a terra ma non funziona per tutti però il gioco è che la stessa cosa non è detto che sia comprensibile da ogni parte quindi è solo una riflessione un gioco però sempre come la grafica possa in questo caso per puro divertimento interno diventare sempre uno strumento l'ultima cosa poi passa ai progetti è il concetto del tempo lo dicevo prima il tempo noi lavoriamo a tempo il nostro valore è anche misurato sul tempo che ci mettiamo anche se è sbagliato perché poi più sei bravo e meno tempo ci metti non ti possono pagare meno quindi è comunque un tema dibattuto sul come quantificare anche il tempo del lavoro però sicuramente è una variabile fondamentale però non interessa sia il tempo di realizzazione che il tempo di vita di un progetto vi ripeto lavorando in ambiti culturali possiamo avere un progetto che deve stare visibile attuale e funzionante per 15 anni e un altro che deve semplicemente raccontarti che c'è un festival musicale in appennino e poi a settembre quella comunicazione sparirà capite che gli strumenti i caratteri le forme soprattutto i caratteri dei tipografici che vai a usare per un museo non possono rischiare di diventare vecchi dopo un anno e purtroppo il tema della moda nella grafica c'è purtroppo mentre se fai un festival deve essere figo adesso quel festival tra 15 anni chi se ne frega quindi il tempo della vita di un progetto è un elemento fondamentale e questo lo costruisci con l'interlocutore sempre giocando con lo studio ha fatto questo esercizio per il tempo per quanto sia pagante lo suono ve lo tolgo perché intanto vi spiego noi abbiamo pulito con l'idropulitrice che è una delle cose più duriose che si possono fare il pavimento dello studio mascherando la parola il tempo sui gradini quindi abbiamo lasciato nella prima immagine lo vedete molto contrastato in cui abbiamo pulito quindi il tempo è scritto con sostanzialmente lo smog di Bologna e poi abbiamo ripulito attorno e ci siamo chiesti quanto potrà durare nel senso che in questo caso non avremmo mai capito non avremmo mai scusate potuto preventivare quanto sarebbe durata questa grafica sul pavimento e la sorpresa è che purtroppo è durata pochissimo quindi vuol dire che il tema dell'ambiente è molto più grave del tema della comunicazione in questo caso va bene basta cose inutili il primo progetto di questi riporti è la parentesi sinistra di questi anni di cui vi parerò quindi la prima sinistra il primo progetto da cui abbiamo detto da qui proviamo a cambiare le cose abbiamo avuto l'opportunità di avere come interlocutore la Pinacoteca Nazionale di Bologna per un po' di timore di non farcela perché è un progetto enorme ho per la prima ed ultima volta chiamato quattro tre il quarto ero io progettisti amici perché secondo me un luogo del genere ha necessariamente bisogno di tre sguardi differenti il progettista a parità di progetto a parità di indicazioni di briefing e di risultato ogni progettista metterà la sua sensibilità che non potevo non fare in questo caso cioè un posto del genere ha bisogno di quattro cioè di più sguardi poi questa volta erano quattro non è che quattro sia il numero magico però ho chiamato le tre persone che stimavo di più all'epoca che potessero con me costruire questo questo progetto poi vi dirò aspetti positivi e negativi però anche in questo caso ho cercato di costruire una piccola relazione tra i progettisti in modo tale che ci fossero maggiori possibilità di soluzione e abbiamo fin da subito provato a installare un rapporto strettissimo con il nostro interlocutore che era e anche sede della sovrintendenza quindi c'era il sovrintendente e c'erano tutte le figure che ruotano attorno a un museo che è anche sovrintendenza che è anche un edificio un ufficio pubblico gli architetti i geometri per quanto riguarda anche gli amministratori per quanto riguarda la parte uffici poi tutti quelli che si muovono nel museo chi fa i biglietti le guardie chi fa le pulizie i pensionati delle associazioni volontari che aprono le porte o che guardano le sale tutti dei possibili tipi diversi di pubblico tutte le persone che in qualche modo potessero anzi che incidevano su quel luogo quindi relazione tra gli interlocutori e relazione tra i progettisti metti assieme viene una grande rete da tenere insieme difficilissima però da lì siamo partiti a lavorare con loro in stretto contatto come si affronta come noi affrontiamo il progetto di un luogo innanzitutto guardando il luogo la grafica è davvero dappertutto e quando devi dare un'identità visiva a un luogo che ha un palazzo un contenitore spesso è storico in un contesto urbano poi dentro è pieno di opere d'arte al 300 al 700 capisci che sono tanti gli stimoli visivi che possono essere mutuati per poi fare un'identità visiva il luogo era questo non si vede benissimo però vi posso dire che era una porta sotto un portico non so se conoscete Bologna ma ci sono tantissime probabilità a Bologna che una porta sia sotto un portico e tra l'altro qui c'è la piena coteca che a casa non vedranno o sì qui c'è l'Accademia di Belle Arti qui penso c'è un negozio di pennelli quindi la facciata è comune a tutte le entità che vivono sotto quindi il palazzo non poteva dire grandi cose l'unico segnale erano le bandiere perché era un ufficio pubblico di solitendenza ma capite che il palazzo da questo lato non poteva dare grandi indicazioni nonostante loro ce ne essero moltissimo foto a destra girando l'angolo la facciata cambia e diventa così chiaramente rimando al portico a Bologna è costante e quando non c'è poi scendendo ancora arrivando all'albero cambia ancora la struttura architettonica dell'edificio capite che è difficile prendere qualcosa che non sia il seno di portico girando l'angolo si trova sulla strada di maggior scorrimento della città del centro città di Bologna l'unica dove non c'è un limite di traffico limitato enorme alberata passeggiatissima c'è il punto più iconico del palazzo che però ha la porta murata quindi è questo murata cioè è il retro della pinacoteca c'è il magazzino abbiamo tentato di dire ma se noi girassimo tutto questo ingresso è molto iconico appunto questo portale però in realtà qui no non può essere quindi insomma l'edificio non dà grandi indicazioni l'interno è un palazzo ottocentesco ha subito negli anni 50 e 900 un restauro massivo da parte di Leone Pancaldi architetto bolognese un po' brutalista che ha inserito una struttura qui si è poco poi magari vi farò delle cose migliori molto geometriche con dei materiali l'ottone il cemento armato il marmo tutto con riquadri molto regolari quindi niente a che fare con la memoria storica dell'edificio un'architettura che può piacere o meno ma sicuramente dà un taglio molto netto all'interno cioè entrando l'arrestimento architettonico è determinante è una gestione un po' grossolana della comunicazione perché non c'è mai stato un intervento di comunicazione non vi ho detto quando si affronta un progetto del genere ci sono lunghissime ore di briefing in cui il conduttore del progetto che in questo caso è il sovrintendente ti prova a spiegare tutte le problematiche da risolvere questa riunione è durata sette minuti perché lui ha detto in pinacoteca non viene più nessuno fate voi carta bianca ma capite che è una responsabilità non da poco comunque il briefing è non viene più nessuno l'ha detta in maniera un po' più volgare nonostante sia un grande personaggio nessuno ci caga perché? perché una pinacoteca con una collezione permanente non è attraente come la ragazza con l'archito di perla che arriva a Bologna e tutti a vederla le mostre più commerciali quelle che fanno botteghino che hanno un'opera di rilievo possibilmente connessa a quel momento di cultura pop e sono sempre mostre un po' da concerto e lì si corre si fa la fila qui dentro c'è Giotto Caravaggio Guidoreni tanto è sempre lì perché devo correre con questo tema del è sempre lì poi uno non ci va mai se lo dimentica è un palazzo nascosto in mezzo ai portici non ci sbatti contro la pinacoteca una seconda analisi quando si fa un progetto di identità e vedere quale è l'identità in essere identità in essere piena con te che era questa cosa non dite brutta o bella che è troppo facile quale problema può avere secondo voi questa identità visiva demodè ma abbiamo detto che non deve avere di essere la temporale però qui indubbiamente questa è vecchia bravissima e tutti hanno detto ma si capisce male sembra una V però il tema vero è che di tre parole l'unica parola identitaria era Bologna la pinacoteca è tipo biblioteca cioè vale per tutti nazionale è un dato che al pubblico interessa relativamente poco e non c'era la B di Bologna senza contare poi c'è un problema di colore perché bisognava per forza correre dietro questo rosso Bologna ma senza poi motivarlo una struttura grafica un po' un po' incasinata il trattamento delle lettere sotto un po' a caso per cui pinacoteca è tutto compresso e Bologna è tutto allargato così grande come pinacoteca e nazionale che forse naturalmente allargo come loro lo hanno stretto un po' non saprei dire facile mettersi a criticare poi tra l'altro non c'è più la persona che l'ha fatto però l'ha fatto un professionista però per noi che siamo chiamati a fare questo non possiamo prescindere da vedere cosa esiste e poi c'è il materiale esistente qui ho fatto un falso dimensionale perché questa è la carta intestata e quella è un foglio 70-100 che è in sala e la carta intestata però è verde e tutta la comunicazione è rossa e abbiamo indagato un po' e in effetti questo verde aveva un senso prima di questo allestimento di cemento armato le pareti erano tutte affrescate di verde ed era diventato un elemento identitario all'epoca c'era un capito all'epoca questo verde al verde pinacoteca quella là è una mappa di evacuazione ce n'è una ogni 6 metri poi ci torneremo anche su questo ci sono tre emittenti in questo messaggio voi arrivate di fronte a questo angolo di muro e avete una mappa di evacuazione un testo e questi sono un metro per 70 quindi la riga di testo è più o meno 60 centimetri avete un testo senza intervallo senza interlinea senza capi niente tutto bombato come un muro che racconta la storia del 600 e del 700 di fianco c'è un'opera che adesso non mi ricordo chi è di 6 metri quadri ma a 20 centimetri da questo c'è un'informazione tecnica che tra l'altro è un po' respingente tutte le volte che io guardo qualcosa mi sta dicendo come uscire ma l'ora di comunicazione che non adesso fa ridere però la percezione di entrare in un posto che ti dice guarda che qui se succede un casino sai come uscire è come se il casino fosse imminente sempre poi se in un ufficio pubblico la cura della sicurezza è al massimo però si può risolvere diversamente quindi l'ufficio tecnico che ti intima come scappare nel caso di un disastro e il curatore della mostra che è lo studio dell'arte che ti racconta è come se parlasse senza mai fare una pausa una botta di testo che è talmente lunga che devi usare il dito per poter andare a capo e di fianco un'opera d'arte inestimabile tre voci che parlano e una copre l'altra altri oggetti sparsi in giro questo è quello che conoscete benissimo da aeroporto il palo con la cintura di sicurezza per tracciare i percorsi con sopra un volantino dove però ti dice orari eccetera perché vi parlo di queste cose perché c'è un elemento che vi avrei detto alla fine vi anticipo che è fondamentale in un luogo che prima di comunicare all'esterno deve comunicare all'interno che è la cura cioè l'incuria è un brand definitivo è la prima cosa che passa l'incuria passa anche da il marchio Flex che è la marca dell'oggetto che ha una forza visiva uguale a Pinacoteca e la cura è basta girarlo però passa anche da queste cose identità cioè non c'è nessuno in Pinacoteca perché è un luogo polveroso abbandonato a se stesso che è più forte di Carracci vabbè c'è questo poi c'è questo che si è rotto quindi ha messo un foglio più basso come spuntano queste due le orecchie di Batman ad altezza bambino pericolosissime l'unica cosa giusta erano queste adesso le vedete male purtroppo lo so se nel computer vedete meglio è un supporto per le diascalia progettato da architetto quindi perfettamente in armonia con l'allestimento dove però vengono infilati i foglietti con le diascalie stampati e quindi si comprimono e si accartocciano tutti e non vi sto parlando di grafiche vi sto parlando proprio di archeggiamento vado dritto all'ultima foto questa foto è di fianco all'aula magna l'aula magna dove vengono gli eventi di presentazione i grandi critici c'era Filippo D'Averio che veniva c'era malgrado tutto anche Sgarbi c'era un sacco di persone che venivano in quest'aula a parlare di arte e quindi la maggioranza ed erano i momenti in cui il pubblico era più più interessato e arrivava quindi il pubblico passava davanti a questo angolo quella di destra della porta dell'aula magna e poi verso sinistra vedete una mappa di evacuazione sai mai due estintori insomma l'incuria che dicevo prima quindi l'identità di questo luogo andava rivista ancora prima che nella grafica nella gestione del luogo qui abbiamo attivato come dicevo un progetto condiviso quindi abbiamo attrezzato una sala intera nel studio precedente con 20 metri di pareti e in questo spazio venivano tutti il suo intendente chi voleva poi per con noi fare ricerca progettare noi raccontavamo il significato di alcune cose prettamente grafiche come scegliere un carattere ad esempio e abbiamo che la faccio breve con tutte tecniche di design thinking facilitazione dei processi eccetera raggiunto una via dove eravamo tutti allineati ecco che è venuto fuori il briefing non in quelle quattro parole qui non viene nessuno ma capendo tutte le problematiche di quel luogo che un po' ve l'ho raccolta ma siamo problematiche anche di di orari purtroppo poche persone nelle sale quindi il tema di quel luogo non era chiaramente biografico ma noi potevamo fare solo quello e da qui è venuto fuori un ragionamento e la prima cosa che abbiamo condiviso con i nostri interlocutori anche se non era tema apparentemente per loro ma condividere le conoscenze fa sì che loro sappiano cosa facciamo e noi sappiamo cosa fare per loro è stato di andare a stabilire quali fossero le lettere cioè il linguaggio spesso si parte dal tono di voce un'identità è una rappresentazione di un'essenza e siamo abituati a pensare che se la trasmutiamo su una persona questa persona debba parlare e parla attraverso lettere le parole la grafica parla con le font e quindi abbiamo scelto come primo passo stabilire due caratteri perché sono i toni di voce abbiamo capito che in questo luogo comunque si accompagnano due persone quando si è dentro un tecnico che dice dov'è il piano di evacuazione e lo storico che ti racconta invece la fascinazione dell'arte la bellezza allora abbiamo scelto un carattere con delle grazie che è quello che che trasmette questa cosa più classica più narrativa più morbida e uno senza grazie bastoni molto tecnico scientifico rigoroso poco emotivo per tutte le informazioni di carattere tecnico questo è il primo passo abbiamo condiviso col gruppo di lavoro e loro hanno capito perfettamente il valore di una lettera che prima era una vale l'altra se è possibile usiamo il comic che nel computer c'è e diventiamo molto più creativi dopo mesi questo progetto è durato più di un anno questo lo posso anche siamo arrivati alla conclusione di proporre quattro soluzioni prima vi ho detto proponiamo una sola quella di cui crediamo in realtà essendo quattro progettisti sono tutti fuori quattro soluzioni delle grafiche uno dei progettisti si è dedicato all'architettura interna e quindi da un'architettura di un allestimento che si basava su questi tagli verticali queste fughe queste riquadrature quello alla figura di destra è il primo quadro che si incontra entrando in Pinacoteca che è San Giorgio il Drago di Vitale da Bologna quindi un quadro molto identitario e lo vedete inquadrato con queste fughe verticali che seguono a cornice fino al soffitto vado molto veloce al risultato uno di noi quattro ha chiesto ha pensato di comunicare l'architettura in questo modo una parete verde come era nei tempi d'oro il quadro che diventa oro la parte preziosa diventa ciò che è dentro il riquadro e un solo taglio che disegna una P Pinacoteca nazionale e la parte dorata diventa Bologna che è la parte fondamentale di questo racconto a parole prima proposta la seconda abbiamo scoperto anche noi studiando il luogo che non solo il contenuto il soggetto la tecnica di un'opera pittorica lo inquadra nel tempo ma anche la forma della cornice abbiamo fatto un discorso rovescio abbiamo non pensato ai quadri ma pensato ai cornici e costruito un alfabeto di tante piccole forme che erano le forme delle cornici che definissero una roba di questo tipo dove il concetto era la varietà di cornici la quantità prima si puntava sul contenitore qui sul contenuto sulla vastità della collezione di Pinacoteca ammiccando un po' questa cosa trebbe essere un alfabeto fantastico fatto di forme usate proprio di fianco alle lettere un'altra proposta fortemente richiesta da loro che era quella dei portici era che si capisse che Bologna era dentro che scusate che la Pinacoteca era dentro a Bologna però il terzo progettista giocando poi sulla Gestalt che è questa psicologia della percezione dove i pieni e i vuoti si alternano per dare informazioni diverse ha tirato fuori questo monogramma dove c'è il rosso che ci hanno richiesto di Bologna questa B che poi ha visto anche i doppi portici questa P bianca che potrebbe essere anche una porta che si apre e lascia un fascio di luce tutte quelle cose che possono essere evocate da una composizione veramente basica e Gestalt come questa ultima uno di uno e quattro ha scelto di far evolvere ciò che avevano quindi trovare un monogramma sensato che avesse lettere giuste ed è uscito questo Pinacoteca Bologna sono informazioni principali la N è stata privata le due aste verticali è diventata una diagonale diagonale in pittura è un elemento costruttivo come la regola dei terzi la diagonale è quella che permette la prospettiva quindi è attinente alla pittura alla storia dell'arte e questa è la quarta proposta se nessuno di voi è andato in Pinacoteca a Bologna e se nessuno di voi in questo momento è andato sul sito della Pinacoteca e non sa qual è quello che è stato scelto proviamo a capire secondo voi quale potrebbe essere stato scelto nessuno? però non va ora vi posso dire che i primi a uscire sono stati questi due per un fatto uno proprio di le persone scelgono quindi il superintendente ha scelto e lui detestava l'allestimento interno c'era era di un noto architetto bolognese era comunque un oggetto fisico che aveva un valore anche storico lui diceva non posso pensare di far rappresentare durante la mia superintendenza quel luogo della cosa peggiore che ci sia e quindi è uscito la cosa positiva è che non è stata messa in discussione nessuna risposta grafica ma il motivo per cui è stata fatta quindi non hanno detto questa non ci piace non ci interessa quello che avete rappresentato e da un lato è soddisfazione perché spesso trovi un intercutore che dice voglio il colore di quello mi prendo il carattere di quello e smontano perché tutte le cose hanno un senso adesso io sono molto veloce comunque la prima è quello il secondo a uscire è questo questo è per un fatto più politico questo linguaggio delle forme bianche sul fondo rosso in realtà è un linguaggio comunicativo che a Bologna è molto diffuso nei musei privati della fondazione Cassi di Risparmio e immediatamente questo richiama una serie di musei un sistema museale privato ricchissimo invidiabilissimo ma non volevano che un ente pubblico si mischiasse con il privato ragionevole devo dire sono rimasti in ballo quei due ma a lungo hanno battagliato e alla fine io ho fatto quello lassù il mio è uscito per un motivo assolutamente sacrosanto che io avevo ignorato questa è una lezione definitiva per me ha detto questo è perfetto è stupendo è estremamente contemporaneo se fossimo in Danimarca ma poi vieni a Bologna e dentro non c'è quella identità giovane fresca le forme i colori la pulizia non c'è niente e vai a mistificare un concetto e quindi io avevo ragionato forse troppo in una visione per spostare a un livello più contemporaneo quel luogo che non doveva essere fatto quel luogo non può essere reso contemporaneo e quindi era proprio sbagliato delle volte in cui ho sbagliato più volentieri dopo averlo capito quindi rimane l'ultima l'ultima che li rassicurava di più che citava l'esistente che aveva dei requisiti adatti per loro ed è rimasto quello essenzialmente l'abbiamo presentato e l'abbiamo presentato con un libretto questo lo faccio passare ma magari me lo riprendo perché c'è solo questo lo abbiamo raccontato vedete anche sulla copertina un po' di ore di progettazione per capire quanto è durato questo lavoro per cui un marchio apparentemente semplice in realtà ha avuto dietro una storia di quasi un anno quasi 900 ore di riunione per arrivare a una conclusione queste sono le pagine che vedrete perché dopo abbiamo avuto a raccontare profondamente il senso di questa diagonale e l'abbiamo fatto proprio andando a raccontare una cosa che non vi ho detto i due caratteri il carattere più romantico graziato e il carattere più rigoroso bastoni senza bezzi e convivo nello stesso nello stesso marchio perché la parte alta è graziata e narrativa la parte bassa è più tecnica senza le grazie il carattere da questo in origine ha fatto un lavoro molto attento proprio nella geometria di ogni singola lettera questa è spiegare l'evoluzione e poi un racconto sul significato di usare la diagonale come elemento distintivo di un luogo questo è l'ingresso e mi fermo perché poi c'è il finale a sorpresa e all'ingresso ancora prima di entrare c'erano già quattro mappe per uscire le abbiamo sostituite con la riproduzione della madre del ritratto della madre di Guido Reni una cosa che abbiamo fatto è anche fare un'unità verbale cioè scegliere quale parole usare per promuoverla quindi la Pinacoteca è diventata la dimora dei giganti dimora perché è un luogo dove sono le persone vive dentro quindi togli questo velo di mortifero che c'era su questo luogo polveroso e dire qui ci sono un sacco di persone fighe i giganti della storia dell'arte in modo tale che poi la comunicazione dopo fosse tutta moltiplicata su queste cartoline queste invece le lascio dove viene rappresentato un quadro di un gigante dicendo Giotto abita qui Guercino abita qui Guido Reni abita qui e così via Raffaello abita qui vedete che hanno un taglio strano le cartoline prendo quella di Giotto che è la più emblematica perché gli avevano tagliato la testa e quella là perché anche la rappresentazione dell'arte è un tema di battuto da morire questo quadro è 4 metri per 3 non potrà mai essere una cartolina perché se l'hanno fatto così deve essere guardato così e allora abbiamo fatto delle cose dove non era mai presente l'opera completa nessuno avrà mai un Guido Reni sul frigo non da parte nostra ma avrà un pezzo perché il gioco era che tu fuori dalla pinacoteca trovi un pezzo come se fosse un frame adesso non è grande naturale perché quando abbiamo provato non veniva però è un pezzo del quadro e lo vuoi vedere tutto vai non ti puoi accontentare di averlo sul frigo e anche in questo senso ecco che la grafica diventa uno strumento di relazione è su una carta che non butti via è una carta bella ecologica che non ti viene da buttare non è il volantino della pizzeria e ha un significato c'è la mappa non di evacuazione la mappa della collezione e ha questo gioco per cui ogni immagine ha la diagonale ognuno la diagonale che punta esattamente verso la diagonale grafica messa in basso a destra e ti sto dicendo ogni opera d'arte la maggior parte d'arte hanno una diagonale sottesa che permette di bilanciare gli sguardi fare le prospettive le profondità di campo e quindi questo è diventato una sorta di gioco perché poi all'inizio le prendi ah poi c'era dentro abbiamo tolto la maggior parte delle mappe di evacuazione possibili abbiamo riportato invece delle opere un po' più grandi non ancora tutte perché tu arrivi e hai una sorta di avvicinamento io vedo un pezzo nel corridoio d'ingresso ne vedo un po' più grande non resta che salire e vederla tutta è diventato un dispositivo di relazione perché poi le scuole hanno cominciato a venire andiamo a cercarle diagonali e maestri portavano a cercare diagonali ragazzi poi dopo dovevamo fare un'altra con un altro dettaglio però e poi il rapporto si è interrotto e quindi questo è un po' come è andata poi abbiamo aggiornato l'atrio ripulendolo un po' di tutti i vari post-it e i torno subito di una gestione un po' approssimativa però il percorso è lungo per diversi motivi uno è perché gli enti pubblici hanno dei finanziamenti a blocchi quindi finanziano un blocco alla volta e quindi eravamo arrivati fino a fare queste cose poi un po' di interventi in sala ma in sala purtroppo gli interventi erano quelli che erano c'era il marchio nuovo aveva numerato le sale con una roba di alluminio incomprensibile però usando il carattere giusto però c'erano ancora le mappe dell'acquazione e i testi incomprensibili ma questo è il meno ci sono gli ostacoli questo abbiamo trovato un giorno entrando leggete bene e capite che il marchio è l'ultimo dei problemi c'è c'è ne scusiamo c'è ne scusiamo quando stai tanto tempo in un luogo e ci lavori come se fosse casa tua quindi lo prendi e vai arrabbiatissimo guarda cosa fate e poi quando ci sono i funzionari che sanno usare in design quindi dicono ma là ci fai li facciamo noi i volantini viene fuori questa cosa il marchio corretto messo sul marmo che è più incisivo con una foto incomprensibile adesso la racconto perché non si vede c'è la foto di una sala di pinacoteca scontornata tipo a nuvoletta con una ragazza scalza con un mazzo di fiori che tende la mano a un ragazzo con le stampelle hanno detto che voleva fare quanto è inclusiva la pinacoteca con la stampella cioè lei bucolica col fiori scalza che gira per pinacoteca lanciando petali e incontra uno con la stampella e gli tende la mano e lui gli tende la stampella e quindi no vi prego non fatelo chi piuttosto chiedete se lo facciamo gratis ma lo facciamo noi ora fai un piccolo corso e loro cominciano a impostare i volantini un po' meglio il marchio al suo posto l'immagine a tutto campo il fatto che stavolta la diagonale sia una striscia di sangue mi sembra un po' forte però e c'è ancora qualche problema di leggibilità però anche qui il percorso è lungo siamo messi a educare le persone a poter acquisire il nostro progetto e farlo loro ecco la relazione fare un progetto e dire appoggiarlo lì finisce se non sei tu a portarlo avanti quindi passarlo di mano semplificarlo al massimo fare in modo che queste persone con veramente con un in design qualche template possono arrangiarsi perché c'è sempre il tema che i fondi non ci sono eccetera 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 questo progetto è iniziato nel 2010 e secondo me qui siamo nel 2016 nel 2016 poi tre anni di silenzio nel 2019 questo lo racconto perché l'aspetto amministrativo entra sempre esce un finanziamento per fare quei famosi pannelli illegibili quelli esatto e ci chiamano le direttrici e dice guardate ci siamo abbiamo i finanziamenti guardate noi ci siamo da molto prima abbiamo tutti i file pronti quindi bisogna solo stamparle e no perché dobbiamo fare una gara gli enti pubblici fanno una gara per cui per avere una un cambio dei fornitori che è sano nel senso lavorano sempre gli stessi però è una roba che ha un tetto economico oltre a quel tetto di investimento devi fare una gara per legge sotto è a tua discrezione ma non è obbligatorio il coraggio amministratore dovrebbe anche stabilire quando è per una cifra molto minore di 40.000 euro hanno scelto di fare una gara perché avevano paura di essere poi criticati per questo hanno fatto una gara è arrivato al capitolato noi abbiamo fatto un preventivo come se non avessimo mai visto niente ma in realtà è tutto pronto mi ha fatto un preventivo ci ha scritto in fondo mi raccomando consegnatelo a mano nel 2019 chiamo e dico ma la PEC non va bene sì sì mandalo per PEC il nostro studio è a 300 metri della pinacoteca quindi anche portarlo a mano noi abbiamo portato a mano dopo una settimana ci chiama la direttrice la buona notizia è che il vostro preventivo era il più basso la cattiva notizia è che vi ho eliminato perché non l'avete portato a mano dico ma portandolo per mail abbiamo turbato qualche cioè qualcuno l'ha visto no 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 fate portarlo a mano e ha vinto uno studio di Firenze che lo ha portato a mano da Bologna noi siamo tre civici dopo quindi coglioni noi non c'è dubbio poco coraggio da parte dell'amministratore che ha scelto di spendere di più per un lavoro che era già fatto ed ha fatto rifare da zero e già questo sarebbe sconveniente il tema è che rifacendo il lavoro da zero poi tutti i personalismi escono e i nuovi progettisti hanno smontato tutti i progetti che avevano fatto fino a quel punto e un giorno passando la penacoteca vedo questa cosa un'ombra sono io così tipo congelato poi passa la direttrice amica piace non ti piace non è che piace non è che la cosa piace non piace mi sembra che non abbiano capito il lavoro fatto da noi fino adesso e l'abbiano cambiato e certo che palle il vostro non avevamo neanche finito no ma gli ho detto io perché il vostro progetto era troppo alto troppo colto ho capito siete la penacoteca se non parlate voi colto chi parla ma non vi è nessuno se parli troppo difficile e questo è veramente il dramma quando il direttore di un ente che è di lavoro emette cultura ha paura di farlo e parla come un discount mettendo i nomi grandi quelli più fighi per attirare gente la penacoteca si finanzia non con i biglietti che costano 4 euro che non ha bisogno di cacciare il pubblico in questo modo però hanno scelto di fare così ho detto ma il carattere non è mica quello ma sì questo è un po' più contemporaneo ma sembra una roba un po' più daventegno questo non è contemporaneo un po' rischioso da poter è indubbiamente contemporaneo politicamente parlando ma eviterei forse e poi i colori avete no i colori abbiamo ravvivato un po' e questo è il tema dei funzionari però dovresti essere contento mi dicono il tuo marchio è di grande e no il marchio è il vostro non è il mio vabbè comunque non voglio entrare nel pettegolezzo questo è il nostro atrio quello è il loro un pannello intero con frasi in italiano in inglese inizia la tua visita start your tour 400 opere 180 artisti ma quanto siamo fighi è cambiato completamente il linguaggio però insomma contenti loro hanno tolto il ritratto della madre di Guido Regni hanno messo questo all'ingresso e anche qui hanno detto ma sono i quattro colori di quattro percorsi no 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 per dare quattro punti di colore non ha nessun senso hanno detto ma e hanno usato adesso mi ricordo se è di di Guercino l'angelo è un angelo bellissimo l'abbiamo usato anche qua perché nella diagonale guardava il marchio di Pinacoteca nella nostra sono cose da grafici delle volte però era bellissimo vedere l'angelo di Guercino che puntava il nostro marchio in alto loro l'hanno usato e lui guarda su ma punta giù ah ma vedi è importantissimo il dito che punta il marchio però lui guarda su però scopo ma c'è un karma hanno sbagliato a scontornarlo il dito è tagliato e qui e lì ho goduto tantissimo va bene ok cosa non so che ore siano io ho veramente un sacco di cose come faccio vabbè ora faccio un altro progetto che mi piace moltissimo mi sono divertito molto a fare quindi ne vedremo due di quattro ed è un castello non so chi di voi conosce l'Appennino bolognese non so magari c'è qualcuno di Bologna fra voi ah c'è qualcuno di Bologna bello conoscete questo castello? l'avete visitato? aspetta di che lo sto parlando comunque per chi non c'è stato il castello è questo vediamo se la foto rende non siamo nella foresta nera neanche a Marrakesh siamo in Appennino vediamo un castello che si chiama Rocchetta Mattei prende il cognome da quello sciroccato che lo ha progettato e realizzato alla fine dell'ottocento è un castello incredibile dal punto di vista storico non è un gran cane nel senso che è una cozzaglia di stili senza logica ma c'è di tutto ma ti spiego il perché lui era anche in Parlamento con Cesare Mattei era un lavoratore con le banche a metà dell'ottocento mollò tutto per studiare l'elettromeopatia quindi pensate a diffidenza che c'è oggi nei confronti dell'omeopatia pensate a metà dell'ottocento elettromeopatia per cui le cariche positive delle medicine in base dei preparati in base a carica elettrica del corpo una roba un po' da Frankenstein e girò il mondo per imparare e sperimentare questa disciplina medica e girando il mondo vide un sacco di cose poi in appennino trovò le fondamenti di un castello di Matilde di Canossa che anche era molto appassionato dell'esoterismo e disse io voglio farlo qui sulle rovine della castella di Matilde e tirò su un castello con tutti i riferimenti stilistici architettonici ma anche molto simbolici che lui aveva incontrato nella sua vita mettendo tutti forzatamente assieme poi andò in Russia tra l'altro lo zar veniva a farsi curare da lui e sembra di essere in Russia da un altro punto di vista qui ancora si è un po' moresco però poi questa foto è stata fatta da sotto ruotandosi di 15 gradi c'è una parte che è un castello medievale con i merli c'è in questa mi spia se si era così male in questa piazza tutta moresca c'è una una fonte battesimale medievale italiana quindi forse non solo ha preso spunto ma anche ha preso fisicamente delle cose c'è un Liberty molto spinto plureale c'è una copia molto simile del giardino dei leoni della Lambra perché è nato anche lì e il top è la sua cappella cattolica che cita la moschia di Cordoba della meschita lui portava dentro tutto in un contesto totalmente surreale capite che il valore di questo luogo non è storico dubbiamente ma è una grande scenografia una grande messa in scena e per quando vi dicevo prima quando vuoi fare identità visiva di un luogo la prima cosa che fai è vedere se il luogo ti dà qualche segnale dubbiamente qui dei segnali mi dà nel senso che non vedete tutto ma oltre a quello che vedete che c'è molta grafica c'è del colore c'è dei pattern delle texture delle forme c'è un sacco di roba da cui prendere spunto ma essendo una cozzale di stili che spaziano in cinque secoli e in cinque continenti è impossibile elevare uno di questi segni a caratteristico di questo castello ci sono un sacco di riferimenti templari massonici esoterici di tutte le religioni incastrate assieme quindi era impossibile isolare un segno iconico definitivo e anche qui essendo per molti di noi grafici la salvezza è andare a cercare delle lettere avete qui da un po' più lontano c'è il bianco e nero e il medievale sulla destra questa testa di uomo in realtà non è una scultura ma in cemento è tutto un po' un grande set cinematografico ecco c'è una quantità infinita di segni assolutamente discordanti tra loro con nessun riferimento con significati lontanissimi religiosi culturali geografici tanti segni inconciliabili l'unico modo per noi di dare un senso a questi segni era privarli del loro significato e trasformarli in qualcos'altro il processo di chi progetta grafica è dare molto valore al significato dei segni noi abbiamo fatto la cosa opposta abbiamo liberato i segni da ogni significato precedente per trasformarli in lettere abbiamo scelto un carattere anche qui pensando a rovescio si sceglie sempre un carattere che abbia un carattere che abbia una personalità noi abbiamo scelto un carattere che ne avesse meno possibile è quasi impossibile ma un carattere di questo tipo ti colpisce per la geometria più che per un riferimento culturale o storico quindi un carattere che avesse poco carattere sostanzialmente per poter essere la matrice su cui puoi caricare tutti i segni che trovavamo per il castello e far diventare lettera anche questo processo progetto ha una una storia curiosa e la fondazione Cassa di Risparmio di Bologna ha comprato questo castello dagli eredi no dagli eredi da chi lo comprò dagli eredi delle del conte perché questo castello negli anni 80 mi ricordo da bambino lo andavo a visitare era stato trasformato in una roba un po' fantastica con delle finte prigioni per renderlo ancora più turistico e poi col tempo non si sosteneva ed è dato un po' in malora quindi negli anni 90 stava crollando nei primi 2000 un comitato locale ha cercato di trovare i fondi per finanziare il restauro ed era impossibile farlo si è mosso anche Louis Jontani non so se lo conoscete è un artista contemporaneo uno dei pochi contemporanei al MoMA di New York che risiede in una dependanza del castello per far diventare un centro dell'arte contemporanea e alla fine è intervenuta la fondazione del mondo della Cassa di Risparmi e ha comprato il castello con una cifra che non so immaginare e con una cifra dieci volte superiore l'ha restaurato il progetto è restaurare completamente il castello e far diventare un fulcro degli eventi dell'Apennino in realtà i soldi sono finiti al 90% del restauro quindi hanno chiuso le porte e se ne sono andati il comitato che da anni locale è fatto da Proloco il Prete gli Alpini una Bandrock tutti quelli che è un paese che avrà 500 persone e si sono eletti a comitato e hanno preso in affitto il castello io avevo già lavorato con alcuni architetti che erano in questo gruppo e mi hanno chiesto di partecipare a questo progetto dicendo probabilmente non ce la faremo quindi chiuderemo fra un mese ma tu hai voglia di starci a fare il tuo senza sapere che verrai pagato se verrai pagato o no ed era troppo divertente per lasciarsi a scappare e abbiamo fatto un preventivo di cui avrebbe valso il nostro lavoro e poi abbiamo messo in un cassetto abbiamo iniziato a lavorare in cambio abbiamo chiesto carta bianca e la disponibilità di tutti gli abitanti del paese quando è venuta l'idea neanche particolarmente geniale di cercare i segni che ricordassero le lettere è diventata una giornata intera dove abbiamo coinvolto tutta la cittadinanza i bambini il prete tutti e tutti sommessi a cercare lettere anche perché non era difficile spiegare qual è una cosa che è una lettera fotografa è venuto fuori l'alfabeto ecco la relazione con il nostro interlocutore siamo diventati coprogettisti a loro l'idea è piaciuta poteva essere gratis quindi dovevano piacergli per forza ma gli è piaciuta e si sono messi a cercare una giornata intera 50 persone di ogni tipologia umana io ero con i miei figli piccoli che anche loro cercavano cose in giro e abbiamo costruito un alfabeto immaginario di lettere un po' impossibili che non possono vivere da sole funzionano solo tolte alla scritta leggibile diciamo però in questo modo vedete che dei segni che non avevano nessun significato che noi non lo sapevamo che era difficile raccontare o che non sono qualcosa di scomodo di massonico quindi aveva liberato il suo significato diventava solamente una lettera e questo è il risultato infinite possibilità di marchio quando dicevo identità dinamica noi abbiamo progettato il modulo il sistema poi tutte le variabili sono assolutamente anche incontrollabili noi abbiamo fatto una trentina ma potevano essere di più la relazione col committente ha funzionato sono divertiti loro ci hanno divertiti noi abbiamo giocato e giocare sempre per ci fare munari è una cosa seria abbiamo fatto la nostra cartolina che è un po' il nostro oggetto feticcio una cartolina da 5 dove c'erano queste belle foto del castello e il marchio sempre diverso e poi in omaggio all'ingresso ci hanno messo a dire la relazione delle persone le persone le prendevano una poi siccome siamo tutti collezionisti le prendevano tutte dopo un po' capivano che almeno uno dei tre segni di ogni cartolina era dentro anche alla foto e gli altri due dove sono? e quindi ci hanno la stare agli occhi a cartolina e cercare nel castello e subito senza che gli venisse spiegato hanno iniziato a giocare e hanno giocato e giravano come dei rabdomanti con questa cartolina cercando l'oggetto che vedevano lì ma non vedevano nella foto e ha funzionato benissimo dopo stati fatti altri altri prodotti di comunicazione il castello ha veramente funzionato oggi a distanza di sei anni è aperto e funziona benissimo è diventato esattamente quello che voleva che fosse un collettore di tutto il sistema culturale turistico dell'Apennino la prossima settimana ci sarà un convegno mercoledì un convegno con il presidente della regione Emilia Romagna proprio di rilancio dell'Apennino e verrà fatto sempre in questo luogo quindi l'obiettivo è stato raggiunto non dalla fondazione bancaria che lo finanziava ma è veramente dal basso si usa spesso il termine dal basso che è funzionato sul serio dopo qualche anno hanno avuto tutti i costi pagare il progetto perché hanno capito anche il valore e ha funzionato a quel punto era troppo facile farsi pagare no le persone continuavano ad andare al castello a cercare lettere poi abbiamo aperto un account Instagram e abbiamo fatto questa cola anche perché prima di diventare quello che è adesso pieno di attività era comunque un castello vuoto bellissimo ma vuoto tu entravi facevi un giro poi non tornavi chi abitava vicino tornava a giocare con le lettere ma senza che avessimo chiesto abbiamo capito che volevano un luogo dove poter depositare l'account Instagram che si è riempito di lettere noi per un anno abbiamo continuato a disegnare lettere pro bono per tenere vivo il progetto poi fortunatamente sono stancati e sono stati degli eventi più importanti dentro di musica di arte di spettacolo di cultura e quindi il progetto si è avviato a solo e noi abbiamo semplicemente smesso di disegnare le lettere queste erano alcune foto prese dall'account Instagram dove la gente aveva perfettamente capito il gioco e anche in questo caso ha giocato quindi no non c'è più non lo gestivamo noi lo gestivano loro anche perché poi è cambiato dopo gestione perché poi il comitato si è fatto da parte sono entrati gli enti specializzati adesso fanno altro però il sistema di identità è ancora è ancora attivo basta e il vostro bene avevo una solo una roba che era in fondo adatto ai progetti che è una frase che ho beccato mi piaceva che era questo e mi piaceva chiudere con questa frase di Montero che dice sostanzialmente un buon designer trovo in modo elegante per mettere tutto dentro una pagina un grande designer ti dice che la metà di quella cosa non serve a niente ci ha detto proprio cosa però bene grazie la domanda peggiore adesso è ci sono domande no vabbè finalmente no stacco solamente senza allora no intanto è un peccato che non sappiamo rimarremo sempre col dubbio di quali sono gli altri due progetti vuoi tornare allora io vorrei anche ringraziare chi ci ha seguito a distanza e magari dare anche a loro la possibilità di chiedere qualcosa a Matteo qualche domanda qualche richiesta di chiarimento di informazione un attimo allora ti ridò a te qui dal vivo qualcuno ha delle curiosità Simbi vorrei capire meglio come funzionava tutta la parte appunto del l'amministratore questo fatto che voi dovevate consegnare a mano il progetto e come funziona effettivamente il progetto ok grazie alla domanda allora anche in questo caso tutti i nostri clienti sono arrivati per relazione quindi siamo arrivati a parlare con Pinacoteca perché se non ricordo male noi facemmo la grafica di una mostra in Pinacoteca entrambi in contatto con loro per allestire questa mostra così e ci fu un buon contatto di collaborazione quando ci fu la necessità di cercare uno studio e chiamarlo a noi era più facile di dieci anni fa perché lavoravi con chi volevi tuo ente pubblico adesso si è obbligato a tornare i fornitori e si capita come è successo alla fine dove per un un vezzo in questo caso non obbligatorio abbiamo perso la possibilità di finire il lavoro non tanto la commessa quello può succedere ma la possibilità di mettere fine un progetto che era iniziato anni prima tecnicamente adesso con il sistema informatizzato di non sia una banca dati dei fornitori gli enti pubblici ti cercano su questo portale che è una delle cose più farraginose e più difficili da usare sia per noi che siamo fornitori che per loro che ci sono a cercare però adesso i clienti quando arrivano arrivano tramite questa piattaforma però è sempre un tirare nel mucchio cioè i clienti arrivano per l'azione ma non perché hai la conoscenza perché hai modo di dire chi sei cosa fai e come lo fai se no lì vieni selezionato su un listino come se tu vendessi carte igieniche per un ente pubblico tutte le spese pubbliche le devono passare su questo portale che sia veramente cancelleria o che sia consulenza tecnicamente è una menata il risultato e comunque le relazioni si instaurano comunque bisogna solo farle passare da questo sistema informatico perché uno può anche chiedere direttamente a te cosa vuole può sotto una certa soglia può sopra deve mettere a bando e chi vince passa da un certo punto di vista è ragionevole se no noi potremmo continuare a lavorare con le narcoteche ma potremmo non lavorare con altri 15 musei e viceversa quindi l'idea di poter comunque turnare i fornitori è sano sembra più sano alla fine di un progetto non da metà perché se no chiaramente il progetto si spappola altro? all'inizio quando abbiamo sì abbiamo rifiutato qualcosa poi l'identità dello studio si è un po' consolidata e arrivano i clienti che vorresti però noi siamo arrivati e lì è facile dire no della politica quando un parito politico lì è facile dire di no o dire di sì comunque è molto netta la posizione altre volte non è così chiara però è chiaro che se ti occupi di ambito pubblico turismo cultura giusto la politica ti può fare sbandare rispetto a una visione e le persone che sono dentro quindi bene o male le persone sono quelle che poi generano il contatto sulle altre l'ente pubblico è anche fatto di spostamenti di persone in altri enti e quella persona vuole che lavori con loro quindi non saprei teorizzare come noi abbiamo i clienti si crea una fiducia un trovarsi bene noi ci teniamo moltissimo la qualità della relazione con i nostri interlocutori e questo paga cioè stiamo bene noi stiamo bene loro poche frustrazioni e loro continuano a dire ma se proprio deve andare vai da un altro studio e quindi questo funziona abbastanza io ero curiosa di sapere in quanti siete in studio e come vi dividete nei ruoli insomma quali professionalità ci sono e poi vabbè l'altro era un apprezzamento in realtà sul logo del castello insomma che rispecchiava un po' anche il biglietto da visita iniziale con il logo che mi è piaciuto molto personalmente grazie e allora lo studio anche qui ha una configurazione un po' inedita rispetto ai studi che conosco io nel senso noi siamo in dieci adesso ma sono dieci persone indipendenti cioè io sono praticamente io e basta voi si è popolato nel tempo di collaborazione e quindi noi siamo dieci persone sostanzialmente indipendenti in quanto studio un po' più grande sono quelli che accoglono i progetti più grandi rispetto ad altri sono più giovani e più più all'inizio meno storia diciamo e quando arriva un progetto ci troviamo e vediamo chi lo può fare per competenza per sensibilità per capacità il limite è che siamo tutti più o meno simili perché la visione un po' dello studio attira persone simili quindi a livello anche di competenze siamo più o meno di tutti quindi stiamo cercando di allargare un po' la rete con competenze che sono meno nostre cioè nel senso io ho un senso di repulsione nei confronti del social non c'è nessun reparto non c'era nel suo reparto social nello studio poi l'ente pubblico ha molto bisogno invece di avere una strategia di comunicazione social quindi abbiamo attivato il canale di cui non voglio sapere niente io so che c'è Sirena che se ne occupa è bravissima ma io però a quel punto si è creato l'ambiente familiare sano poi hai bisogno di competenze che crescono non mi piace perché il co-working sono persone individui che condividono lo spazio noi condividiamo proprio un'identità di lavoro è un collettivo formalmente un collettivo che si compone in maniera fluida in base alla dimensione a difficoltà alla tipologia di progetto paradossalmente non è arrivato un anno dopo perché l'anno del 2020 era finanziato nel 19 quindi tutte le attività del 2020 hanno solamente cambiato di reazione invece che fare il concerto facevi la passeggiata nel bosco ma gli enti pubblici avevano fatto comunque attività turistiche nel 2020 abbiamo lavorato allo stesso modo nel 2021 invece la gente dal 20 non hanno investito sul 21 e se tutto un po' fermato a gennaio febbraio e marzo 21 era tutto fermo che è quando mi sono iscritto per insegnare ovunque poi mi hanno preso tutti insegno in sei corsi ma lo studio è ripartito quindi sono adesso un casino però sì con un po' di coda lunga però in realtà adesso senti veramente quattro mesi di incertezza poi dopo hanno ricominciato a crederci la cosa la leggo ad alta voce allora Claudia Visser non so se ho pronunciato bene il cognome gli interlocutori clienti sembrano essere in entrambi i casi attori collettivi quali sono le modalità adottate nella coprogettazione c'è stato un accesso a una sessione di design thinking vorrei sapere qualcosa di più su metodi e strumenti Sì noi nel 2010 quando abbiamo deciso di attivare questo nuovo percorso io per primo ho collaborato con una società di Bologna che si chiama Osatonic che fanno attività di facilitazione di processi collaborativi abbiamo lavorato assieme su un altro tipo di progetti però c'è venuto in mente che in effetti la semplificazione di un processo e la progettazione di un processo potrebbe essere utilissima per generare le relazioni migliori tra interlocutori e progettisti quindi di base abbiamo qualche metodologia da design thinking sì ma in realtà adesso è quasi spontaneo cioè la coprogettazione viene quasi da sola quindi non sarei in grado di teorizzare un metodo Sì una modalità di condivisione che poi ha trovato clienti che avevano voglia di fare la stessa cosa e poi comunque questi processi collaborativi ci sono dalla parte del design ma anche dalla parte delle dell'ente pubblico già ormai quindi almeno nel territorio emiliano-romagnolo già succede quindi è quasi fisiologico trovarci sì non so se ho risposto forse no però non ce l'ho una risposta secondo me non era chiara la risposta perché non sono sicuro di risposta alla domanda ma non saprei fare di meglio quindi se me ne fate un'altra mi fate un piacere se no è ora di di andare vero va bene io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione se avete piacere spero cose di più abbiamo una mail abbiamo un sito abbiamo un modo di essere trovate io rispondo volentieri qua qui guarda da là no salutiamo e ringraziamo oh Maria Luisa ci sei ancora ciao 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 ciao